Presidente Campitelli, era l'estate del 2008, lei prendeva in mano la Terramo Calcio, estate 2018, 10 anni e 11 campionati. Una cosa bella, ti posso dire francamente che ho lo stesso entusiasmo forse di più del primo anno perché lì non mi rendevo conto a che gioco giocavamo. Ripartiamo molto alleggeriti, ripartiamo da un progetto molto nuovo, fatto veramente con una linea comune e che devo dire? Devo dire che oggi abbiamo allestito una squadra giovane con dei ragazzi meno giovani, penso che l'accoppiamento di queste due entità possa portarci dal sorrido che vedo di tutti i nuovi perché i nuovi ridano a 48 denti e quindi l'avete visto anche voi che questo entusiasmo negli anni passati non c'era, eravamo tutti chiusi, tutti impauriti. Abbiamo fatto riscrizione a una squadra in un momento veramente terribile perché io ero scoraggiato, avevo voglia solo di fuggire, perché quando le cose poi non vanno bene, però non ho mollato, non ho abbandonato, i miei tifosi non li ho abbandonati, li ho riscritto la squadra, siamo in C, sono cadute tante teste importanti dalla B in sotto, sono molto orgoglioso di me, di tutta la piazza, dei miei tifosi perché poi il tifo è una cosa che voglio dire, basta una vittoria per tornare a volerci bene, a stimarci e quest'anno torneremo tutti a volerci bene e a stimarci perché ce lo meritiamo, perché non abbiamo abbandonato nessuno, né noi, né i miei tifosi, i nostri tifosi veri e né il sottoscritto che ha continuato a lottare, che ha lottato, che ha dato anni senza ferie pur di poter far sì che il terramo calcio rimanesse in questa categoria. La questione fideiussione, visto che qualche tifoso ha espresso qualche preoccupazione, cosa possiamo dire? Siamo andati in Banca d'Italia per capire se questa società era, poteva assicurare, era iscritta e quindi per noi è tutto a posto. Abbiamo pagato 30.000 euro per avere, non 5 lire, 30.000 che l'anno scorso ne pagai 7 e quindi noi stiamo in una botte di ferro. Sui soci, eventuali allargamenti? Sicuramente, credo che un altro paio entreranno, più con il signor Cantagalli abbiamo trovato un'intesa per quanto riguarda il campo e possiamo mettere a reddito quel bene, perché oggi senza il bene del campo nessuna società può andare avanti.